Per prepararsi alla tempesta in arrivo e riconquistare Asuopoli serviva un esercito più grande. Ed ecco l'idea. Liberare e armare gli schiavi. Loro avrebbero avuto la loro vendetta e noi il nostro esercito. Purtroppo anche il migliore dei piani e degli imprevisti. E durante una delle guerre per la liberazione degli schiavi del nord ovest, siamo stati colpiti da una catastrofe dei nostri tempi. La nebbia scende dai monti ed i rapporti ci dicono che una contea oltenica è stata completamente invasa. Non è rimasta anima viva. Altri rapporti ci informano che la gente della nebbia ha sconfinato nei nostri territori ed ha conquistato Panesius. Calamità nebbiose a parte, sembra che invece la campagna di liberazione del nord est sia andata notevolmente meglio. E mentre altri schiavi finiscono le nostre fila, ci arriva la notizia che Fenvir sta combattendo in una grossa guerra civile. Questo è il momento che stavamo aspettando. La riconquista di Asuopoli ha inizio. Ragazzi, il piano è pronto. Le finanze più o meno ci stanno, si spera. Ed è dunque il prestigio è arrivato e la scelta è poppata. La riconquista può iniziare. Speriamo che Altan mantenga le proprie promesse e sfidiamo un nemico più forte di noi, ma che in questo momento si trova in crisi per una rivolta interna. Se non è questo il momento, io non so quando è il momento. Però noi facciamo una piccola mariolata. Andiamo a creare un nuovo sito qua. Tipo, esatto. Resiamo All Ments qui, perché se là c'è l'evento io ho questa idea in testa. Ho questa idea qua, ecco qua. Al comando la nostra bellissima guerriera e la mandiamo sulla capitale. Ok? Anzi. La guido... Te dopo. La guido io per adesso, la situa. E appena siamo sul posto giusto, perché comunque è giusto ci sta secondo me, non è che va preventivato. Ecco qua. Appena siamo sul posto giusto, tac, facciamo scattare la riconquista. Il tempo è giunto. Quei cani di Fenvir sono seduti sul trono di avversaria, sul terreno dell'avversaria per troppo tempo e non saremo mai capaci di salvare la nostra patria da se stessa finché questi animali banchetteranno e girovagheranno per la nostra grande città. È tempo di chiamare i nostri alleati e di scrivere il primo capitolo della nostra saga della riconquista di Chiara la guerra. Il tempo... Il tempo ha giunto. La legione è pronta. Pronta come quando iniziarono la marcia di ritorno verso casa sotto il comando di Valerix e dal nostro fianco marciano anche i nostri nuovi alleati. Schiavi liberati, oltenici volontari dell'est. Davanti a noi si ergono le mura di Asuopoli, la grande città che brilla anche in mezzo a tutta la devastazione portata dal Frod Bronkna. Ma i Fenvir non vanno sottovalutati. Servirà coraggio, abilità, furbizia se vogliamo sperare di batterli. Anche dell'aiuto esterno non guasterebbe. Gli oltenici hanno promesso il loro supporto in cambio dei diritti sulle terre di Efesos. La regione è essenzialmente deserta e anche se è sicuramente un peccato doverla cedere visto che è di diritto versariana sarebbe comunque un piccolo prezzo da pagare per riavere la nostra città. Gli oltenici ci hanno aiutato prima. Rendiamo questa cosa una vera alleanza. Vai! Vai! Le tribù olteniche di mia madre hanno provato la loro lealtà e hanno mantenuto la loro offerta. Teomaxa si unirà a noi con la promessa che il resto dell'armata arriverà presto. Sicuramente uniti nessuna feccia di Fenvir. Fenvir riuscirà a batterci. Per avversaria marciamo. E parte la guerra. Io litigano già adesso per strategia da mettere in guerra ma io posso farlo usare entrambe perché sono fregna. Allora siamo già sulla loro capitale però non sta workando. Ok ora worka si è acceso. La mossa è direttamente sulla loro capitale. Vedi un po' te? Nemico join alla cosa ma noi abbiamo i nostri amici. No noi non abbiamo i nostri amici. Che cazzo di fine hanno fatto? Holy fuck. Dove sono gli oltenici? Altan devi venire qua. Non so se è chiara la sito. Tra l'altro noi abbiamo delle magie scusatemi. Strengthen. Cos'è che fa questa roba qua? Alla persona. Dispel backfire 7%. Fire magic. Siege freeze time meno 15%. Bello questo qua. Possiamo mettere creazione. Cosa fa? Fertility. Pausa. Vedo i nemici là che si avvicinano. No. Quickening. C'è da movie speed 25. Oh mi piace questo fire magic da usare sulle nostre armi. Però non c'è. Non c'è possibilità di farlo. Character lens. Prisoner. Enemies. Enemy lens. Ma penso che questo vada fatto sui personaggi. Quindi su un solo personaggio. Impossibile su un solo personaggio. Dovrebbe dare. Cos'è questo qua? La potenza? Uh. Però così backfire tantissimo. Aumentiamo la potenza. Guardate quanto cazzo lo si può aumentare. 100% di enemy casualties però. Ecco esattamente questo. Vortex of destruction. Wow. Guarda la magia veramente figa. No. Andiamo con un livello base da fare. Penso power limit. Current power zero. E non posso usare. Usatemi quello del mio tizio. Mi pareva fosse questa la base proprio della situa. L'ho messo qua. Cast spell. Secondo me le possiamo provare a farlo sulla mia generalessa da combattimento. Che non mi ricordo più qual è. Adesso appena finisce l'assedio qua. Vediamo un attimino di faglia. Gli diamo le armi di fuoco. Vediamo un attimino contro le armi di fuoco. Ah loro si fermano un po' indietro ad assediare là. Hanno magari la sfiga dello sbarco? No. Non mi pare di vederla. Quindi è così. Allora vorrà dire che questa qua ci giochiamo così. Certo che se gli oltenici non arrivano. Ha detto che sarebbero arrivati forse più tardi? Come qua il gioco è buggato e questi non arrivano e ci lasciano nella merda. Però almeno la capitale la prendiamo subito. Magari abbiamo culo. Magari abbiamo culo e glieli secchiamo subito senza né saper leggere né scrivere. No. Sì ok non ho voglia di inciucciarmi con sto tizio qua. Ok siamo amici ma rimaniamo amici. Amici amici e manchino alla bici cioè. Calmi. Dai capitale cadi e cattura il figlio di qualcuno ti prego. Gli abbiamo rubato una pelle di qualche bestiaccia dell'Ibex. Ottimo ma non così ottimo. Allora andiamo a cambiare generale e mettiamo questo tizio qua. Questo tizio qua aggiungerlo alla spell targets. Vediamo non so bene ed è una vita che non faccio sta roba qua. Fire magic su Coterix. Vediamo. eccolo qua. Coterix e Nomos. Fire magic. Current possibility. Blablablabla. Eccetera eccetera. anime casualities advantage. Vediamo. Cast spell. Ho visto che si è abbassato qualcosina. Secondo me gliel'ha dato. È possibile che l'abbia visto male. Forse qua in mezzo. No. Mi sembra che gli abbia dato. Eccolo qua. Minor fire magic. Gliel'abbiamo tirato usando la magia del tizio. Vai amore di papà. Ora sì che sei un generale coi controcoglioni. Marcia contro il nemico. Fagli vedere la furia della legione. Ma prima di tutto sono incinta. Nuovamente. Sbaraglia il nemico. Gli abbiamo presi. Abbiamo 38 di vantaggio. Non hanno menatarms loro. Oh. Gli abbiamo preso la parte molle. Aspetta un attimo. Ah ok. Cercano di venire a salvarli. Quando ormai però. È finita per. Oh. Oh mio dio. Non ci credo. E li abbiamo seccati tutti. Gli. Gli dei sono con noi. Gli dei sono con noi. No. Non scappare. Non scappare. Animale. Ah. Qualcuno vuole combattere. Ma io sono incinta. Va bene. Combattiamo. Cioè. L'ho presa ovviamente. Ben. Hai combattuto bene. Hai combattuto bene. Non serve incazzarsi. Aprimi la faccia. Hai battuto una donna incinta. Complimenti. Complimenti. No. No. Niente. Allora. Bisogna lasciargli fare per ora. Andiamo avanti a conquistare. Io intanto sto aspettando ancora Oltan che arriva ma tant'è. Io direi che per ora ci godiamo la vittoria e andiamo a prenderci quel posticino qua. Anche se forse. A Giopoli sarebbe bella da prendere. Però è un po' lontana e voglio vedere di. Voglio vedere di fregarli quelli lì. Potremmo castargli un'altra magia quello che gli aumenta la velocità no? Quella sarebbe anche un'opzione. Però figata sta roba delle magie. Me l'ho dimenticata. Guarda qua. BAM. Fino al. Villo del 64. Per due anni ce l'ha. Ah madonna. ne vale fin troppo la pena. Attenzione. Senta Row di mia figlia. Wait a minute. Andiamo a prendere la bambina. Tra l'altro lei è latent magic quindi ottimo. Gli diamo la cosa della guerra perché comunque sarei addestrata. Educare la bambina. Educate child. La educo io. E via così. Vediamo se riusciamo a fregare questi vigliacchi. Vediamo se riusciamo a fregare. Ok. Dimmi che collina? È collina. Abbiamo vantaggio per i maghi. Loro però dicono per river crossing. non c'è modo di passare di lì. C'è ancora river crossing. Sì. Però io mi fido dei miei magi. Mi fido dei miei magi. Oh se no mi fermo. Aspetto. Vediamo se se ne vanno. No un cazzo. Mi fido dei magi. Dai. Frega cazzo del coso. Abbiamo vantaggio 11. C'è il loro generale. Ma i nostri magi dovrebbero avere un bonus perché combattono in un punto che ha l'oro congeniale. Se non mi ricordo quant'è. Anche loro hanno i magi. Cani vigliacchi e bastardi. Dai ragazzi. Dai. Spingete. Abbiamo perso. Vabbè. Era abbastanza scrausa questo qua. Ce l'hanno decapitata. Sì. Sì. Dio santo. Sì. Sì. Nella battaglia. Quale battaglia era questa qua? Nella battaglia di Hemons dove millequattro di loro riuscirono a fuggire. Il loro re però fu catturato. E senza l'aiuto degli oltenici. Cani vigliacchi usurpatori in fingardi che non sono venuti a darci una mano. Possiamo porre fine a tutta questa diatriba e forzare i nostri demands. Il al coquilligan e caeda. Quello che se la tira. Toto. Soit B. Dio santo. Ci siamo ripresi finalmente la nostra capitale. Possiamo disbandare. Quanti schiavi sono morti in questa guerra qua? Un po'. Non tanti dai. Ci abbiamo rimesso più di noi. Guardate quanta roba che abbiamo preso. Finalmente Asiopoli è nostra. finalmente. Finalmente. Non so chi mente ma finalmente sicuramente. Allora. Buono. 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 Vi faccio vedere. Anche se per ora è tutto disabilitato. Intanto mi piace tantissimo che siamo riusciti. Abbiamo marciato e abbiamo vinto. Alleluia. Signori. C'è un evento di corte. No. Abbiamo trovato qualcosa. Alla pelle che ci siamo inchiappettati. Questo ci dà più prestigio. l'attacchiamo via là in alto. Così imparano. Allora. Le città. Le capitali. Funzionano in maniera un po' differente adesso. A parte il fatto che secondo me dovrebbe darci il sito di poter liberare la gente. Ma possiamo anche fare... Vabbè. Vabbè. Allora. Praticamente. La capitale è questa. Classico. Con tutti... Tutte le costruzioni che si possono fare. Sono veramente tante. Solitamente aumentano tutto tranne le tasse. Cioè le tasse le vanno a diminuire. Perché paghi per avere roba. Solitamente. Tipo holding taxes qui meno 5, meno 5. Qua è l'unica che la Royal Mint che te ne dà di più. Anche le Luxury te ne dà un po' di più. Ma per il resto a volte ti abbassano. eccetera eccetera. C'è nessuno un bel po' dove si può scegliere. Che danno un po' di buff. Intorno alla città ci sono dei distretti. Come funziona in Civilization un pochino? Questi distretti sono devastati e non danno nessun buff. Ma se si va qui o meglio se si va qui si può scegliere di comprare o ricostruire un nuovo distretto. Il Workshop District, Urban Trade, Temple, Maritime Palazzo Militare eccetera eccetera. Si spende un po' altro 500. E si attivano tutte delle strutture nuove che vanno a baffare ancora di più la capitale. Quindi c'è la capitale principale e poi tutti i vari distretti a fianco con tutte le varie menate. E ognuno ha le sue costruzioni. Cioè quello Maritime avrà la roba tipo delle imbarcazioni, del commercio mentre quello militare ti aumenterà il sito e così via. Secondo me questa cosa qua doveva esserci un po' di base sulle capitali di CK3. Sono contento che l'abbiano aggiunto qua. Adesso queste un po' disattivate eccetera eccetera. Poi ricordiamoci che Asiopoli è un porto principale quindi più 30% di tasse e sviluppo Mayor Commons Hub che poi è più popolare opinione perché sono stati pacificati. Qua in questo mod qui c'è anche le Trade Roots che sono coste e città portuali principali. Quindi ci viene veramente figo che questa è una delle più grandi che c'è. Quindi mi sa che saranno anche eventi o altri bonus per questo e quest'altro. Ora noi abbiamo Small Monument che ci darà prestigio e Renew figata. Boulevard che ci darà tasse che ci servono e anche prestigio che anche quello va bene è quello che è. Ovviamente se troppo così può pare un pochino eccetera eccetera. Io però vorrei la Luxury Trade che è tasse, prestigio e Diplomatic Range però in verità che altro mi pare che guadagni? Cioè Diplomatic Range vai veramente lontano con quello. Oppure mettiamo da parte abbastanza anche l'Arena che ti dà Reinforcement Levy e Knaiz quantia che ne dà. Ogni più uno che vai su te ne dà fino ad un più 8 finale madonna mia e non costa neanche tanto alzarla no cazzo 1800 questo qua è per il primo sito ok vabbè 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 l'importante è quello comunque spostiamo qui la capitale buono è giusto e in più abbiamo il porto il Chris Limani più uno set di tasse e 40% di sviluppo lo chiamano il porto d'oro vacca cane felicissimo felicissimo non capisco perché non ci hanno dato la decisione di liberare qui ecco perché perché non ho il prestigio bisogna aspettare di avere il prestigio adesso cosa faccio do via qualche città che ormai non ci serve più tipo queste qua centrali come darò via la roba e noi ci arrocchiamo qua perché questa diventa la nostra nuova capitale a tutti gli effetti con tutto quello che ne consegue ne consegue che non abbiamo neanche un cazzo di costruzione però tutte queste costruzioni qui dei magi buffano queste colline qua le magi tower aumentano i soldi abbassano il costo e i danni dei magi di poco ma se le fai staccare secondo me e qui e qui era il caso io non capisco perché sto barbaro avesse tutta sta roba dei magi vigliacco infido bastardo che sei te con i tuoi territori e se le palizzate spero che ti strozzi con le tue stupide palizzate e qua hanno una costruzione a madonna per la difesa vabbè tant'è comunque vediamo oibo il piccolo mascalzone che è nato lo chiamiamo traiano vai così abbiamo un erede maschio che poi in verità non cambia niente anche lui mago latente perché tra l'altro scusate un attimo vai ad allenare ah non abbiamo più il mago di corte vai allena mio figlio tutor child nella magia che magari cresce un pochino più 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 sveglio stavo dicendo ah sì comunque al fin fine non è che cambi molto il fatto di avere un maschio o una femmina perché comunque sottostiamo sotto la successione del senato del sangue quindi a un certo punto qualcuno se dovrà Bloods and Hate tutti quelli che aspirano ad avere questo titolo verranno qua e ci si picchierà ovviamente solitamente vincono i maghi perché usano la magia quindi i migliori sono quelli che manterranno il controllo della situa e poi alla fin fine probabilmente diventeranno regnati quindi io posso mettere assieme un cioè posso creare un erede degno ma non è detto che questo poi alla fin fine vinca nello scontro del senato del sangue adesso qua mi state rompendo un po' le palle ma in verità pian piano vi acclimaterete tutti belli contenti possiamo dare via anche sta ragazza per 50 situa vai sono 50 situa in più per me volevo è un po' buttati nel cesso magari facciamo ancora un paio di guerre di espansione però boh devo poter stavo pensando di fare un paio di guerre di espansione giusto per avere la decisione di liberare no prima dobbiamo finire aero noi che però mancano ancora un bordello quindi si possiamo anche farla una guerra di espansione magari a messopus che non l'ho ancora finita che è questa qua sarebbe prendere qua solo che la nebbia è veramente nebbiosa al momento infatti guardali qua smuggling ring e poi c'è la fog che è lì e una volta fatto quello liberare i tizi oppure lasciar perdere lasciar perdere spendere soldi anche per fare una festa modesta non sarebbe non sarebbe proprio brutto quanto è che mi costa 133 200 per per il prestigio forse una caccia sarebbe più giusta e tentare di liberare gli schiavi lì almeno liberiamo sta cazzo di città dalla schiavitù cioè gli schiavi di questa città poi anche lì abbiamo già deposto lo strozzo il problema quando andiamo dagli schiavi alle gabbie è ragazzi non siamo abbastanza prestigiosi per aprire il lucchetto se aspettate un po' di tempo lo apriamo fin tanto rimanete schiavi questa è mi sa la logica inicepibile che c'è dietro non posso ancora dichiarare la guerra alla nudista io sia dannato quindi boh per ora si va avanti così ma penso che una delle due sia a posto forse è anche fatto vediamo sapete che mi è venuta in mente la mezza idea ho visto che c'è il figlio di Eskeras che sta andando in giro a casa senza fissa di mora guardate che ragazzina ha otto anni è geniale la magia è potentissima lui è un puro sangue totale certo si porta dietro il peso e il prestigio del nome del padre e vuole diventare non so se c'è caso io potrei fare una millicata arrange marriage con mia figlia e lui matrilineare ovviamente questa è una cosa assurda e bellissima voglio vedere dove arriviamo fonderemo la nostra casata possibile casata con quella di Eskeras il figlio puro sangue con la figlia di una bastarda il fastidio dell'inferno nel paradiso che ci sarà e questo questo ragazzo qua che è un talento nato arriverà da noi probabilmente eccolo qui eccellente e già gli sto sul culo e già gli sto sul culo e lui ha anche diritto a dei claim sulle terre mi pare ha i diritti su quelle terre là qua tra l'altro ragazzi non so se notate è caduta un frammento della luna si è schiantato penso qui vediamo no da qualche parte qua in giro comunque si è è caduto un pezzo della luna che dovrebbe tecnicamente aumentare i poteri magici qua small island dove cavolo era c'è con cui ci sono una quantità di modificatori comunque quando cade la luna fa un sacco di casino lì sotto sono gli effetti del fraud brockna quando ha spaccato su tutto ha spaccato il mondo ma ha anche spaccato un sacco di roba ogni tanto cadono aumentano la magia di alcuni frammenti ancora noi non siamo capaci di usare la magia però tant'è fatto sta ragazzi che decido di chiuderla qua la serie e la puntata ck3 solitamente non va moltissimo e non voglio strascicare troppo lungo una cosa che magari non interessa quindi abbiamo visto la caduta di tetradia e vendicato valerix la guerra con i barbari e la conquista di asuopoli in futuro riusciremo a fermare l'olda del nord gli oltenici che non hanno fatto un cazzo in questa guerra ci tradiranno? beh ragazzi forse non lo sapremo mai un saluto non lo sapremo